Chiusura anticipata alle 22 per le ville comunali di Bellizzi e quanto deciso dal sindaco Mimmo Volpe dopo gli atti di vandalismo registrati nelle scorse notti. Ultimo in ordine di tempo, quello verificatosi in piazza Municipio nella notte fra lunedì e martedì dove ignoti hanno sfasciato i coppi che costeggiano la fontana. La piazza spiega il primo cittadino come tutti i luoghi pubblici, casa loro e nostra. Di qui la decisione, per tutto il periodo invernale le ville comunali saranno chiuse alle ore 22.